Ciao, anche quest'anno Arete ha pensato di rimanere accanto a te durante questo periodo di feste, con una opportunità unica nel suo genere. In partenariato con Panquiz abbiamo sviluppato un qualcosa di straordinario, un percorso completo su Panquiz, esastroistivo, gratuito e che porta addirittura alla certificazione come docente certificato 10 e lode. Ma che cosa sto dicendo? Dove c'è questa opportunità? Se venite con me dove all'interno di areteformazione.it nella home page troverete i nostri partner, Arete è partner ufficiale esclusivo di Panquiz e leggendo questa descrizione potete entrare tutti quanti, ma dico proprio a te che stai guardando questo video, all'interno dei vari livelli. Mi raccomando, entra dal livello base perché poi verrai accompagnato attraverso i meccanismi automatici che contraddistinguono le nostre piattaforme, al livello intermedio, avanzato, esperto, conoscerai perfettamente Panquiz e poi diventerai docente premium. Cosa significa? Che tutta l'intelligenza artificiale e diverse funzionalità esclusive per i docenti certificati saranno due. E a questo punto, come nostro solito, vi auguriamo buon anno, buon inizio anno insieme ad Arete e a Panquiz. Auguri a tutti e ciao!